Sindaco di Rogudi, Dottor Agostino Zavettiero, un giorno importante per la comunità di Rogudi. Buonasera intanto per essere qui a Rogudi, che è una giornata importantissima in quanto la riliqua di Papa Giovanni Paolo II è qui a Rogudi. Oggi alle ore 17 l'accogliamo lì sotto alla rotatoria che è tra Melito e Rogudi. Io reputo che questa è una giornata molto importante, per cui tutta la cittadinanza partecipa a questo evento importantissimo, come diceva. Don Giovanni è molto contento di questa sua partecipazione e accoglimento della reliqua qui a Rogudi. Un'altra cosa importante nel programma, anche domani ci sarà un incontro importante con i bambini e gli insegnanti a Rogudi. Certo, sarà anche nella scuola domani sabato 12 di dicembre. La reliquia sarà anche portata a scuola, che è un patto molto importante.